amiche collegate in diretta in ascolto ben ritrovati a tutti una nuova bella puntata speriamo di del ciclo di catechesi una sala la sana dottrina cattolica abbiamo già fatto un bel piccolo tratto di questo viaggetto che sarà abbastanza impegnativo e abbiamo introdotto la volta scorsa un tema molto importante che è il tema del peccato questa introduzione che oggi sarà completata vediamo se riusciamo anche poi andare oltre è fondamentale per introdurci al sacramento della penitenza che è il secondo dei sacramenti che vorremmo affrontare insieme dopo il battesimo abbiamo fatto questa opzione diciamo così e a risuscitare i morti e poi tutti quanti quelli dei vivi che poi incastreremo durante il nostro percorso con l'aiuto del signore la volta scorsa tanto per introdurci abbiamo parlato dell'importanza del senso del peccato di che cos'è il peccato e di come il nostro contesto storico contemporaneo abbia quasi del tutto perso il senso del peccato e quindi l'importanza di riacquisire il senso del peccato quindi ruolo della legge della coscienza eccetera oggi proseguendo insomma un ciclo di catechesi che si chiama la sana dottrina cattolica voi capite che necessita di alcuni passaggi che sono diciamo così catechistici proprio ma attenzione di importanza capitale fondamentale cioè le cose che dirò questa sera bene oltre che ovviamente da provenire dalla sacra dottrina cattolica e per come le dirò e per alcune accentuazioni che farò si deve tenere presente che hanno dietro un'esperienza sacerdotale vissuta cioè il senso ce lo siamo detti all'inizio di questo ciclo di catechesi no io sto riaffrontando in questo ciclo di catechesi delle tematiche che affrontai tempo addietro con la grande differenza che sono cambiato io come persona sono si spera cresciuto ma ho anche acquisito tanta esperienza quindi ho visto un panorama di cose e quindi nel presentare determinate verità posso adesso avere delle attenzioni che mi vengono dalla esperienza vissuta che un tempo non avevo perché come dico io sempre ai fedeli dico figli miei mi raccomando quando vi dovesse venire in parrocchio un giovane parroco abbiate pietà d'accordo e abbiate anche pazienza perché un giovane parroco penso che sia come un giovane padre al primo figlio cioè si impara a fare il padre facendolo nessuno è nato imparato io non voglio mettere le mani avanti insomma però è inevitabile che si commettano una serie di errori appunto dovuta all'esperienza perché non c'è niente che possa sostituire l'esperienza niente questo è una cosa che si impara insomma no siccome sono quasi giunto a mezzo del cammino di nostra vita cioè ci sto già dentro perché sono nel cinquantesimo anno di vita insomma quindi non è finito è appena iniziato però era opportuno necessario allora cominciamo a focalizzare il peccato noi tutti quanti abbiamo già parlato del peccato originale no presento la dottrina proprio di sant'ommaso d'aquino questa sera così come la ritrovate in tutti i catechismi della chiesa il peccato abbiamo visto che cos'è sappiamo che il peccato in generale è di due è anzitutto distinto in due grandi specie il peccato originale e il peccato attuale che significa questa distinzione il peccato originale che a sua volta attenzione si distingue in peccato originale originante e peccato originale originato è quello che hanno commesso i nostri progenitori e che come sappiamo si trasmette attraverso l'atto del concepimento per propagazione a tutto il genere umano senza nessuna eccezione il peccato originale originante è quello commesso da adamo il peccato originale originato è quello che hanno tutti i suoi discendenti questo peccato facciamo una sintesi così inerisce a ciascuna persona come se fosse proprio anche se non lo ha commesso si chiama tecnicamente per ricordarci una formuletta peccato trasmesso ma non commesso però priva della grazia santificante e per rimuoverlo è necessario il sacramento del battesimo chiaro dal peccato originale si distingue il peccato attuale perché si chiama attuale non semplicemente perché è un fatto di attualità ma perché attuale deriva dal latino attum cioè si commette con un atto cioè non è una cosa che io mi ritrovo appiccicata e non centro niente non il peccato attuale centro io perché è un atto e vedremo subito che proprio il costitutivo formale del peccato sta nell'essere un atto sempre attenzione della volontà e quindi se non è coinvolta la volontà non si può nemmeno parlare di peccato e attuale quindi un atto fatto nel presente d'accordo con una libera volontà con una volontà che rimane libera come vedremo questa sera attenzione rimane libera è sempre anche se il tasso diciamo così della sua libertà e il grado della sua libertà può essere condizionato da una serie molto grande di fattori interni ereditati o esterni che quindi possono aggravare o diminuire la responsabilità degli atti che una persona commette tenete presente che queste cose che sono insegnate dalla morale classica della chiesa cattolica se uno studia diritto penale come si lo dice a suo tempo più o meno si ritrovano tutti perché anche i reati sono delle cose gravi che sono imputabili tanto quanto e qua tanto maggiormente quanto maggiore la coscienza e la volontà in cui sono stati commessi e tanto maggiormente quanto maggiore è il dolo che si è avuti nel farlo quindi l'intenzione proprio espressa che giunge al massimo nella premeditazione quando io la escogito una cosa la pianifico e poi la attuo quindi c'è proprio lì proprio una responsabilità perfettissima discorsi analoghi valgono qui in questo tema attenzione il peccato attuale poi attenzione si distingue questo abbiamo parlato tutti quanti andranno piccolini il peccato mortale e veniale qual è la differenza tra questi due il peccato mortale è una disobbedienza alla legge di dio in materia grave attenzione a queste parole commessa con piena avvertenza e deliberato consenso adesso le vedremo tutte queste cose desidero tanto che chi ascolta queste cose per favore le faccia proprio come patrimonio suo perché cioè noi dobbiamo fare in modo che tutta la bellezza della nostra santa fede sia in noi anche quando affrontiamo una tematica che è impegnativa come quella del peccato e come quella della della venitenza poi capirete il perché faccio queste diciamo considerazioni e queste esortazioni preventive spero che capirete il peccato veniale invece è o quello che ha ad oggetto materia lieve oppure non ha non è stato commesso con piena avvertenza e deliberato consenso attenzione se manca soltanto uno dei tre elementi che costituiscono un peccato mortale cioè materia grave piena avvertenza e deliberato consenso sia sempre un peccato veniale cioè vediamo tutte quante le fatti specie si può commettere un peccato in materia grave con piena avvertenza ma senza deliberato consenso facciamo un esempio una persona che subisse una violenza sessuale d'accordo ma la materia è grave la persona lo sa che quella cosa non si deve fare c'è il deliberato consenso no anzi c'è quella forma massima diciamo così di quasi paralisi diciamo così della della libertà che è appunto la violenza d'accordo e in alcuni casi è completamente come dire invincibile perché supponiamo che una persona fosse proprio letteralmente immobilizzata che cosa ci può ci può fare oppure in una cosa c'è materia grave e deliberato consenso ma non c'è la piena avvertenza cioè la persona non si rende conto che la cosa che sta facendo riguarda una materia grave anche se la fa proprio senza darsi nessun pensiero ma sì ma questo si può fare non è una cosa grave è il caso di quando la nostra coscienza è erronea o siamo inconsapevoli di quello che facciamo facciamo un esempio mando a quel paese ma proprio col core una persona uno può pensare che mandare a quel paese una persona vabbè gli ho detto una parolaccia quando c'è voce che sarà mai se legge il vangelo di matteo ma il nostro signore ha detto che nel vangelo che se tu a una persona gli dici stupido se ti adiri sarei sottoposto a giudizio con il prossimo se gli dici stupido sarei sottoposto al sinedrio se gli dici pazzo sarei sottoposto al fuoco della genna adesso vediamo chi sta seguendo la diretta alzi il ditino chi è chi sarebbe più contento che una persona lo insultasse dicendogli pazzo oppure se come cantava alberto sordi lo mandasse dritto dritto a quel paese ma col core mandare a quel paese una persona mi sembra anche per la trivialità e la volgarità intrinseca nel termine con cui si manda a quel paese una persona è una cosa molto più grave o no quindi se gesù ha detto che se dice una persona pazzo c'è il fuoco della genna non è che se gli dici vaffa c'è il limbo d'accordo o il paradiso probabilmente c'è da pensarci un po ma la persona non ne è consapevole quindi quando vedete un modo ce mando proprio quindi c'è la materia grave il deliberato consenso la persona però non si rende conto che quella è una cosa grave e ce la manda e poi la domenica va tranquillamente a farsi la comunione perché vabbè ma che sia mai ce l'ho mannato che è ok la materia lieve classico peccato veniale da materia lieve il peccato di gola o la classica bugia di scusa d'accordo moglie racconta una balla su cose che non fanno male al prossimo perché non mi va di dirgli quello che sto facendo oppure sono abbastanza sazio però sto dolce proprio non ci posso rinunciare oppure l'ho già preso ne voglio un altro po e faccio il peccatuccio di gola d'accordo facciamo un pochino di esempi scolastici per allora invece un peccato mortale richiede la sussistenza di tutte e tre queste condizioni se una di queste tre manca peccato mortale non c'è allora numero uno numero uno cerco di dire tutto è noi dobbiamo sapere che non possiamo e non dobbiamo giudicare mai nessuno per quale motivo perché se anche una persona commette una cosa grave ecco perché gesù nel mangelo è categorico non non giudicare perché primo potrebbe non averne la piena avvertenza secondo potrebbe non aver fatto la cosa con deliberato consenso magari non perché è stato sottoposto una violenza una coazione ma perché cosa ne sai tu di quello che si porta dietro quella persona a proposito a questo proposito facciamo trailer consiglio degli acquisti l'ho già comunicato a agli amici che sono sul mio canale telegram e venerdì però da venerdì prossimo vorrei a proposito di ferite che uno si porta dietro cominciare un nuovo ciclo di catechesi diciamo così su questo argomento cioè sull'argomento guarigione sull'argomento di come gesù ci prende ci guarisce ci risana ci fa nuovi e ci porta se lo vogliamo fino alla pienezza della vita è un ciclo di catechesi anche questo che vorrebbe essere un aggiornamento di un altro mio storico ciclo di catechesi che molti conoscono chi sono io per poter amare e anche questo alla luce numero uno una serie di ulteriori importantissime cognizioni che ho avuto in ordine ai percorsi di guarigione e numero due anche qui tanta esperienza accumulata e numero tre allora mi mancava ancora un ultimo tassello perché quel ciclo di catechesi finiva con delle prospettive ma non ne mancavano le altre ulteriori che sono venute nel corso del tempo per esempio mi mancava una cosa tecnica un atto fondamentale nel processo diciamo così di rinascita che è per esempio questo sarà l'ultimo step per rifare gli atti nella divina volontà dove la vita nostra non soltanto la riconciliamo ma la proprio boom succede una bomba atomica succede questa è l'ultima parte del percorso quindi si è reso necessario chiusa parentesi torniamo indietro la guarigione e quindi le ferite tu dici quella persona ha fatto quella cosa grossa quanto una casa ha ma quello lo sa benissimo e chi te l'ha detto a te tu sai quello che ha vissuto io sono un sacerdote no quindi tu sai se quella persona da piccola ha subito violenze tu sai se quella persona ha vissuta dentro un inferno dentro i genitori che se facevano la guerra peggio della 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 guerra dei roses per chi se l'ha visto eh tu sai se quella persona è stata abbandonata tu sai se quella persona ha da 12 13 anni è stata che ne so violentata da un bruto d'accordo che ne sai tu tutte queste circostanze che neanche noi possiamo giudicare su noi stessi vanno ad influire sul deliberato consenso e quindi ecco perché sapete facciamo riferimento ad una mistica che io conobi molti la conoscono no adesso vero non vero non fa niente mi serve fare questo riferimento per far capire un concetto no molti conoscono maria simma questa donna austria che è morta da un pochino di anni e che come la nostra la natuzza si dice che stessa a contatto con le anime del purgatorio è famoso il fatto che maria simma diceva che aveva visto john lennon tutti conosciamo chi è john lennon in purgatorio ma come john lennon i beatles i beatles pare pare pure che fossero compromessi con ambienti insomma strani e tutti stupiti non c'è da stupirsi in sé perché perché anche se quel poveraccio di john lennon avesse fatto una vita molto sgangherata a parte che io non lo so insomma quindi non c'era non era nato insomma uno lo può presumere ma tu che ne sai quello che si portava dietro che si porta dietro nel cuore capito ecco perché la chiesa canonizza i santi ma non dannatizza mi perdonatemi il neologismo i dannati perché ora non possiamo essere sicuri che una persona si sia dannata al cento per cento primo perché potrebbe pentirsi e secondo perché chi te l'ha detto se anche ne ha fatte quante carli in francia che dietro quelle male fatte che sono comunque male fatte adesso lo diremo stasera sono cose che vanno confessate ma qual è il tasso di responsabilità soggettiva della persona guardate che questo non soltanto non possiamo giudicarle sugli altri ma noi non possiamo giudicarlo neanche su noi stessi capite per cui adesso quando una persona si confronta per esempio con le dieci parole con i dieci comandamenti sia che lo si faccia in maniera forte dirompente ma anche in maniera soft è inevitabile che accada che prenda coscienza vedete il senso del peccato di cose che ha commesso e che si rende conto perché dice questa è una cosa grave è una cosa che io ho fatta mamma mia allora attenzione se tu al momento in cui l'hai fatta non eri cosciente che era un peccato grave probabilmente peccato mortale non l'hai fatto spero che si capisca bene queste cose che sto dicendo perché perché ti mancava la piena avvertenza allora non ho fatto niente no hai fatto quindi anche perché tu quanto puoi essere sicuro che sta piena avvertenza proprio non ce l'avevi proprio per niente cioè c'è un ambito nell'ambito di ciò che accade dentro di noi in cui la nostra conoscenza come dice san paolo è imperfetta dico queste cose perché per esempio trattando della confessione sicuramente io dovrò fare un accenno perché poi le confessioni si dividono anche per come dire per tipi di confessioni no c'è la confessione di devozione cioè quella fatta con frequenza c'è la confessione che è necessaria per accostarsi alla comunione c'è la confessione che è prescritta dalla chiesa in certi momenti c'è quella che si chiama la confessione generale la confessione generale è un gesto ascetico bellissimo importantissimo molto molto santificante però esperienza mia credetemi dentro tutto quanto questo amalgama e dentro questa come dire esperienza di rinascita grande che è una bella confessione si può purtroppo insinuare la bava del diavolo perdonatemi il termine o meglio la nostra volontà umana che purtroppo prende malamente alcune cose per cui una cosa che è bella diventa una tortura o un incubo ecco perché si sente ogni tanto dire no e in qualche ambiente è però la confessione non è che uno sale sulla sedia elettrica oppure non è entrare in una sala di di torture perché si dicono queste cose queste cose non sono vere perché il sacramento della confessione è una cosa bellissima d'accordo ed è anche una cosa molto seria quindi non si va vedremo a fare la confessione per farsi una chiacchierata o una seduta psicologica o uno sfogo quella non è una confessione ecco anche qui speriamo che le persone non sanno quello che fanno ma se uno andasse a fare la confessione proprio con questa intenzione è cioè correrebbe il pericolo di andare veramente a fare quasi come dire una sorta di presa in giro al nostro signore no cioè la confessione è una cosa seria nostro signore ha versato il sangue per 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 istituire per perdonare i nostri peccati no quindi la confessione deve essere confessione ok ecco però attenzione allora supponiamo devo prepararmi la confessione generale mi confronto con i dieci comandamenti e se ce l'ho ancora messo a drizzare i capelli perché mi accorgo che su dieci comandamenti nove su dieci ho addirittura di su dieci non fatti il sacco è una sport e adesso che facciamo e adesso te la sta tranquillo o certe cose che provengono voi sapete che il magistero della chiesa sui sacramenti è stato e diciamo così formalizzato dal concilio di trento è chiaro che poi il concilio vaticano secondo e il magistero successivo dei pontifici al concilio vaticano secondo la prima che mi viene in mente senza voler mancare agli altri papi abbiate pazienza perché purtroppo cioè sono buona memoria ma non sempre è come dire capace di abbracciare tutto mi viene in mente la riconciliazione penitenzie di san giovanni paolo secondo che è spettacolare per quanto riguarda il sacramento della della confessione no d'accordo se uno dice se l'argomento ecologico c'è l'enciclica che ha scritto papa francesco insomma sul sull'ecologia no quindi per esempio quindi sul tema della penitenza la prima cosa mi viene in mente è la riconciliazione penitenzi però tra le cose che 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 formalizzò il concilio di trento che sono tuttora valide si trovano anche nel catechismo attuale è che oggetto della confessione adesso poi centriamo piano piano sono tutti quanti i peccati gravi adesso vedete attenzione gravi che uno ha commesso nella vita e che non ancora confessato che significa significa che se io acquisisco la coscienza lo voglio a dio di aver commesso delle cose oggettivamente gravi dovrò confessarle però attenzione il fatto che io abbia commesso delle cose oggettivamente gravi non significa necessariamente che per me siano da considerarsi peccati mortali mi raccomando sia chiara questa distinzione perché perché se quando le ho commessi io davvero non avevo la piena avvertenza e questa mia mancanza di piena avvertenza addirittura anche scusabile perché non potevo neanche farci niente oppure c'erano delle condizioni interne o esterne violenza fisica violenza psicologica ricatti pressioni che hanno attenuato il mio consenso la mia responsabilità davanti a dio quindi potrebbe anche in teoria succedere ok io faccio una confessione d'accordo che dove dico una montagna di cose attinenti della materia grave e davanti a dio attenzione che vale anche il contrario però è perché se io faccio una cosa che è materia lieve ma io penso che sia una cosa grave ecco perché vi ho già premesso che il peccato si trova nella volontà quindi io faccio una cosa che è materia lieve d'accordo ma io penso che sia una cosa grave quindi la mia avvertenza è che quella materia sia grave e dico la faccio lo stesso allora pur avendoci una materia lieve ho peccato mortalmente per cominciamo subito a focalizzare come dire santo maso dice che l'abitazione la casa il luogo proprio del peccato è la nostra volontà più c'è la volontà tra l'altro la volontà illuminata dall'intelligenza più io sono colpevole meno c'è la volontà e meno io sono colpevole davanti a dio ripeto questi sono discorsi oggettivi poi da un punto di vista soggetto per questo che noi dobbiamo metterci ci giudicherà soltanto nostro signore san paolo scrive nelle sue lettere dice non vogliate giudicare nulla prima del tempo finché venga il signore io neppure giudico me stesso sono parole di san paolo perché anche se non sono consapevole di colpa alcuna non per questo sono giustificato cioè quando una persona dice mi sembra che non ho fatto nessun peccato bisogna sempre dire così cioè guardate che i santi quando parlano di queste cose quando parlano delle cose di dio delle cose della coscienza non dicono mai è è è dicono sempre mi pare mi sembra a quanto mi risulta quindi cautela se john lannon non sta all'inferno vuol dire che non è morto in stato di peccato mortale perché lo sa lui se sarà confessato se sarà pentito non avrà fatto peccati mortali oppure ha fatto cose gravi ma non era pienamente consapevole ma questo è quindi noi dobbiamo stare attenzione che questo non è che attenua minimamente il discorso sulla gravità del peccato sul dovere di evitarlo e sulla nefandezza del peccato ci consente però semplicemente di stare al nostro posto noi siamo dei poveri esseri umani d'accordo in cui se vediamo che qualche cosa in qualche cosa abbiamo mancato dobbiamo avere l'umiltà di riconoscerlo di accettarlo e di prenderci nelle conseguenze e assumerci le responsabilità lo andiamo serenamente a presentare al nostro signore con tutta l'umiltà possibile dicendo questo è quello che ho fatto mi rimetto al tuo giudizio in ordine alla serietà gravità imputabilità di quello che ho fatto evidentemente te ne chiedo perdono e mi affido la tua misericordia altro esempio che metto le mani sempre avanti d'accordo faccio tutti una serie di esempi e noi abbiamo l'obbligo e questo è di confessare tutti quanti i peccati anche quelli della vita passata che non avessimo mai confessati se questa cosa che è vera e che è una cosa bella perché dobbiamo andare a confessare i peccati della vita passata ma cioè perché dobbiamo torturarci perché dobbiamo stare tutta la vita fammi ricordare che l'avrò detto non l'avrò detto non è questo cioè se c'è una perché il sacramento della confessione adesso cominciamo a introdurci è il modo con cui il sangue di gesù prende i nostri peccati li lava e li distrugge capito signore li spolverizza li annienta se una robaccia una zella ti rimane dentro la coscienza tu lo sai che ce l'hai e non la porti a farsi distruggere dal sangue di gesù sarebbe come se tu ci avessi che ne so un virus dato che oggi va tanto di moda o una parte del corpo in cancrena che lo lasci lì il virus se se tu te lo puoi togliere di dosso è meglio che te lo togli no cioè una ferita che sta in cancrena è meglio che te la vai togliere perché sennò quella produce male che che te lo tieni a fasto cosa nella coscienza gesù è morto in croce va gliela porta a lui porta lì a lui è venuto a prendersi su di sé peccati nostri non ci azzarderemo mai a fare una cosa di questo genere ok solo che uno non può stare una vita a pensare e questo l'ho detto e questo non l'ho detto e mi devo riconfessare e la devo fare un'altra volta per così non capo più quindi vedete cioè la volontà umana cioè per chi mi conosce perché conosce anche un pochino la divina volontà queste cose sono proprio le classiche manifestazioni della volontà umana cioè tu c'è una cosa bella che ti viene da nostro signore una cosa che ti viene data per la vita per il bene per la tua liberazione cade dentro purtroppo una un'umanità ferita fragile e in vario modo impisciata e quella cosa che dovrebbe aiutarti diventa una maledizione perché va sicuro che una persona che comincia a entrare in questo in questo in questo in questo cioè gli devi dire senti tu non ti voglio vedere più come le persone scrupolose che a un certo punto il confessore deve obbligarli a dire senti tu ti confessi una volta al mese non di più ma no non è vero io o fai così o io non ti confesso più non c'è altro sistema per aiutare questi poveri anni attenzione un altro esempio ancora anche qui e stasera facciamo gli esempi è d'accordo così allora quando arriveremo a certe materie d'accordo si vuole un problema molto grosso da un punto di vista pastorale che il problema che se nella vita io sono rimasto un single da solo mi porto dietro soltanto i problemi miei quindi dovrò fare i conti solo con me e con la mia coscienza il problema è che se io mi sono sposato quindi siamo in due ci sono tutta una serie di cose che non riguardano soltanto me ma riguardano tutti e due allora voi sapete che c'è un argomento che oggi ormai è considerato estraneo alla alla dimensione del peccato perché si considera cosa normale lecita ma non lo è che l'argomento attinente alla famosa castità purezza che si vive prima durante dopo il matrimonio fuori e dentro il matrimonio poi ci arriveremo ci sono una serie chiaramente di comportamenti che non funzionano neanche quando si è sposati in chiesa d'accordo perché come vedremo a suo tempo anche il bel esercizio della sessualità umana nel matrimonio va vissuto da figli di dio supponiamo però che come accade adesso in tantissimi casi si vadano a sposare due battezzati che di vita e di pratica di fede hanno fatto quasi zero vivono per dieci anni nel matrimonio chiaramente facendo delle scelte pensiamo alla contraccezione per esempio o a tante altre cose a un certo punto uno dei due lo sposo la sposa si avvicina alla chiesa si converte cambia vita è chiaro che capirà che alcune cose che stava vivendo davanti a dio non vanno bene e adesso che facciamo perché se tu te presenti da quell'altra parte che fino al giorno prima hai vissuto in un certo modo e pretendi che dall'oggi al domani questa o questo cambi completamente orizzonti non succederà perché te prende per scemo ti prende per esaltato ti prende per fanatico e potrebbe 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 anche fare delle 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 pazzie potrebbe andarsene con qualcun altro scusatemi potrebbe sfasciare il matrimonio e allora che facciamo che facciamo sfasciamo il matrimonio quindi la nostra santa fede cattolica attenzione è quindi questo i principi sono sempre sacrosanti nell'applicazione però bisogna sempre fare attenzione alle circostanze perché se uno guarda la legge in maniera come dire come un cavallo con i parocchi cieca si trova dinanzi a situazioni assurde può dio volere che si sfascia un matrimonio perché uno dei due vuole cominciare a vivere santamente la sessualità coniugale questa è la domanda io la sto ponendo apposta in maniera provocatoria è possibile una cosa di questo genere può essere questa la volontà di dio no allora che cosa devo fare continua tutto come prima no in quei casi ecco perché vedete anche i documenti del magistero anche recente della chiesa quando si dice questi sono i principi poi però ci sono le persone le persone vanno prese per mano vanno accompagnate vanno guidate devi fargli fare un percorso devi farcele arrivare capito allora un conuge può trovarsi di fronte come dire all'inevitabilità di essere tollerante per un certo periodo di tempo con certe cose con certe situazioni che di per sé sarebbero cattive non perché vuole continuare a farlo vedete che il peccato sta nella volontà lui non vorrebbe ma se è troppo rigido da subito sfascia una famiglia capito allora lì bisogna andare a parlare con un bravo confessore che ti dirà regolati in questo modo piano piano così fai questo per quest'altro magari per un periodo di tempo non succede la fine del mondo d'accordo uno aspetta a fare la comunione cioè ma nel frattempo si avvicina a sto poraccio che questo non ha fatto il tuo stesso cammino non le sa non le ha ancora interiorizzate tante cose come cioè allora tu devi avere con pazienza anzitutto ti metti a pregare tanto perché il signore faccia arrivare la luce anche a lui perché te sei sposato ecco perché è importante è importante vivere buon anticipo il fidanzamento casto perché se tu alcune cose le metti in chiaro da subito questo non succederà mai ma se una persona ha vissuto dei fidanzamenti disordinati ha cominciato a ad avere una condotta matrimoniale disordinata e a un certo punto si sveglia la mattina è quello che sta vicino dice ma che sei scemo cioè tu mettiti nei panni cioè noi dobbiamo sempre metterci nei panni degli altri pensiamo se quell'altro mi avesse fatto così adesso stessi nei panni suoi cioè non accetterei mai una cosa del genere ma come sono vent'anni che stai facendo così mutarsi la mattina ed oggi diventa colà capite che significa circostanziare cioè questo non significa non significa che tutto debba continuare così perché il peccato non bisogna farlo quindi bisogna trovare il modo di toglierselo dalle dalle di dosso il più presto possibile scrollarselo via però se ti trovi incastrato in questa cosa qui dovrai trovare una via di cima con calma perché altrimenti si ingerano i meccanismi che stanno nelle sette pensate a certe cose che accadono in certe parti del mondo io non voglio mai fare 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 nomi no o tutti adegui al comportamento religioso imposto oppure sei fuori sei fuori della sette sei fuori pure dalla famiglia questo non è cosa che appartiene a noi è questo qui capite assolutamente cioè c'è di quando c'è di mezzo il sacramento il matrimonio è un sacramento capite per cui non 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 cioè quello va salvaguardato è chiaro che dice ma allora che faccio continuo così no no però bisogna fare dei percorsi capito non si può spesso dall'oggi al domani puff se io sto da solo che ne so io sono un singolo sono stato per anni schiavo della pornografia d'accordo chiamiamola per nome mi sento una bella predica di del mio parroco rimango folgorato come san paolo sulle vie di damasco vado a casa distruggo tutto ed oggi in poi chiuso viva dio va dio te benedica magari d'accordo tranquillo ma se il comportamento disordinato è stato vissuto in coppia con tu moglie e marito sposato in chiesa alla sta tranquillo cioè non è che da sta tranquillo nel senso che allora pazienza andiamo avanti no però dovremo arrivare ad una conformità oggettiva con la legge di dio attraverso un cammino fatto per tappe se leggeri documenti della chiesa tutti i documenti recenti dicono questo tutti ok quindi quando si parla di percorsi di accompagnamento di cose o di non si vuole negare l'oggettività del bene e del male ma si vuole fare attenzione che l'applicazione di questi principi non divenga un boomerang se non è lo stesso discorso che ho fatto prima è come se tu dici e devi confessare tutti i peccati della vita passata e quello a modo stare tutta la vita a pensare no calma tranquillo quindi cioè il modo con cui i principi cioè questa è la grande cosa questa è la grande cosa che vi dico vi parlo per l'esperienza che si impara dall'esperienza perché tu vedi che se una personalità come dire è fondamentalmente per tutta una serie di situazioni e chiamiamola così sana equilibrata prende bene quelle cose le metterà in pratica e non c'è problema ma questa situazione non è tanto tanto diffusa cioè le situazioni di si chiamano fragilità ma non è fragilità non vuol dire negare la peccaminosità fragilità vuol dire che tu una persona è è ferita è fragile è instabile è non troppo equilibrata è già se porta dietro un mondo e allora con questa cosa bisogna farci i conti perché fino a quando questa non guarisce i principi deve essere accompagnata nel metterli in pratica altrimenti cioè tolgono alcuni mali ma ne producono altri che non vanno bene e a volte quelli che producono sono grossi mi raccomando spero di essermi spiegato questi questi discorsi sono assolutamente fondamentali sono previ sono pregiudiziali altrimenti come dire il contatto con la materia morale di peccato confessione e mondo ammesso rischia capite oggi noi ci troviamo allora capite di questa seconda parte della problematica io ripeto ne ho preso coscienza dell'esperienza sacerdotale del di quello che abbiamo visto nella puntata precedente cioè della perdita del senso del peccato in ero cosciente da da 50 anni quindi quindi allora che succede per stimolare il senso del peccato per far rinascere il senso del peccato che cosa deve fare uno deve chiamare le cose per nome e cognome non avere paura di dire questo è bene e questo è male e questo è importante però oltre alla mancanza del senso del peccato c'è anche un altro problema della nostra generazione che siamo una generazione senza spina dorsale siamo una generazione fragile siamo una generazione spesso e volentieri tendente un po' al depresso d'accordo siamo una generazione ferita alle spalle molti che ce l'hanno alla mia età la legge fortuna è del 70 la legge fortuna si chiama pure insomma vabbè la legge fortuna è del 70 quella che ha introdotto il divorzio cioè per quanto la società contemporanea si sforzi il divorzio è una cosa normale ma il divorzio non sarà mai una cosa normale perché un paolo ragazzino che vive queste cose qui che vede una famiglia genitori sfasciarsi che gli manca la terra ma quello se le porta a vita queste cose qui allora quel paolo ragazzino quando crescerà se non fa percorsi di guarigione quello se le porta dietro queste cose e se tu a quello gli sbatti davanti come dire nuda e cruda la legge di Dio con tutte le sue esigenze quello rimane come dire rimane rimane schiacciato sotto un peso più grande di lui che non lo può sopportare quindi c'è purtroppo anche questa c'è anche questa realtà nel nostro mondo quindi sembrerebbero delle delle cose e allora come facciamo allora la verità bisogna dirla con grazia e con gradualità bisogna poi spiegare che esiste la legge della gradualità dice la chiesa d'accordo non la gradualità della legge ma la legge della gradualità cioè tu comincerai piano piano a fare dei passi per in una situazione per esempio matrimoniale si cercherà di fare dei passi insieme se un conuge non si come dire non si ritrova sulle frequenze della morale cattolica bisognerà nel tempo cercare di far comprendere come sia un atto di amore autentico perché su questo ci dobbiamo mettere d'accordo il rispetto della persona allora tu amore mio tu non condividi va bene cioè io non te l'ho messo subito avanti quindi siamo andati ho cercato di parlarne ci abbiamo pregato ho tollerato tante situazioni eccetera eccetera però così arriva del momento non dall'oggi al domani che tu devi capire cioè io ho abbracciato una fede capito cioè che ha delle esigenze si possono trovare delle forme e ci sono sempre nella vita matrimoniale dove anche l'esigenza di chi la pensa diversamente è in qualche modo almeno entro certi limiti salvaguardata quindi per favore a questo punto ti chiedo di venirmi incontro anche se non condividi però abbi un minimo di rispetto per quello che è cioè questo è costituzionalmente garantito insomma no cioè capito io non l'ho fatto atteggiarmi non l'ho fatto come dire uscite da folle dall'oggi al domani quindi ti ho aspettato ti ho camminato vicino ci ho pregato su ne abbiamo e parla eh però non posso stare in eterno in questa situazione perché cioè io devo farmi la comunione voglio confessarmi voglio stare tranquillo cioè desidero avere una vita cristiana normale serena e tu su questo mi devi aiutare e mi devi rispettare ok spero di essere stato chiaro insomma eh queste due dimensioni eh atteggiamento tipicamente cattolico vanno tenute insieme avrete capito che da un lato c'è l'amore alla verità e dall'altro però c'è la salvaguardia della carità queste due cose non possono non possono andare disgiunte cioè né in nome della carità si deve o si può tacere la verità anzi la prima forma della carità è fare e dire la verità con carità però neanche in nome della verità si può mancare alla carità né si possono andare a fare e questo di questi tempi purtroppo stiamo ricominciando a fare queste cose nonostante San Giovanni Paolo II nel 2000 quando fece la famosa purificazione della memoria e questo me lo ricordo bene perché io comincio ad essere vecchierello nel 2000 avevo 30 anni quindi stavo già in seminario da 4-5 anni cosa disse San Giovanni Paolo II disse che tante volte nel corso della storia pur 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 nel doveroso incarico di difendere e promuovere diffondere promulgare la verità molti figli della chiesa e uomini di chiesa hanno mancato alla carità e attenzione noi non possiamo trincerarci ma questa è la verità quindi la verità verità sin caritate perché la verità senza carità davanti agli occhi di Dio non va non va neanche l'altra cosa cioè nessuno di queste due posizioni quindi ricordiamo questo è proprio questa cucina si chiama la sana dottrina cattolica capito cattolica quindi noi abbiamo questa risorsa la carità nella chiesa è la legge suprema se prendete il codice di diritto canonico non ce l'ho adesso qui in camera se no che sta sotto in ufficio ve lo leggevo in diretta leggerete l'ultimo canone dice va bene tutto quello la legge della chiesa va osservata bene e tutta però si ricordi sempre che al di là di tutte quante queste leggi umane che vanno osservate perché la legge della chiesa lo vedremo a suo tempo si deve osservare e si deve rispettare la legge della chiesa e le autorità della chiesa tutte si devono obbedire e si devono rispettare ma la legge suprema è la carità che significa significa che quando la legge e l'osservanza rigorosa moralistica formalistica farisaica della legge mi fa leggere la carità fermi tutti fermi tutti fermi tutti fermi tutti mi sono soffermato su queste cose poi la prossima puntata parleremo della confessione tutti i tipi di confessioni come si fa la confessione eccetera eccetera però vi prego ecco ma sono sicuro che avete capito cioè dentro le cose che ho detto oggi ci sono quasi 20 anni di esercizio del ministero sacerdotale d'accordo quindi queste cose le ho potute constatare faccio una sintesi abbiamo finito ricordiamo la distinzione tra peccato mortale e veniale ma soprattutto tra peccato grave oggettivamente tale e mortale che lo diventa solo in proporzione della consapevolezza e della del grado di coscienza e della adesione della volontà alla materia grave conosciuta come tale secondo tutta quanto una serie di circostanze che ci portiamo dietro ci le portiamo dietro noi e tutti quanti gli altri per cui nessun giudizio sulle persone né sugli altri ma neanche su noi stessi Dio non vuole che ci giudichiamo sarà Lui l'unico che può giudicare l'unico è Dio noi possiamo e dobbiamo giudicare i comportamenti oggettivi cioè dire questo è buono e questo è cattivo questo è bene e questo è male non le persone neanche noi stessi mai e per nessun motivo terza cosa nell'applicazione anche di ciò che la Chiesa insegna sul sacramento della confessione e più in generale nelle norme morali ricordare sempre che tutto deve essere vissuto con calma con serenità con discernimento con gradualità e dentro il contesto particolare in cui mi trovo ho fatto volutamente riferimento delle situazioni matrimoniali perché quando cioè nel matrimonio uno deve capire se uno accetta la vocazione al matrimonio poi la parleremo quando parleremo del matrimonio tu non sei più da solo tu non puoi decidere come se l'altro non ci fosse non lo puoi fare hai scelto hai scelto io non posso fare le cose alle testa mia se sono un prete io sono un prete e come prete devo rispondere al vescovo uno al papa due alla comunità a cui sono inviato tre posso fare le cose come mi pare la testa mia se volevo farmene come dire l'indipendente mi rimanevo laico perché io sono un prete io sono un membro della gerarchia non posso comportarmi come come se non lo fossi ho dei doveri una persona che è sposata non può comportarsi come se non ci avesse la moglie e il marito vicino non lo può fare e Dio non te lo può chiedere su questo tu tu stai proprio tranquillo così come a me Dio non mi potrà mai chiedere mai di andare contro i miei doveri sacerdotali mai capito se su questo non siamo non siamo chiari capito non cioè non ci capiamo ok infine l'ultimo principio veritas in caritate e caritas in veritate verità nella carità e carità nella verità in nome della verità non si può non si deve mancare la carità non si deve rompere l'unità ecclesiale non si deve rompere l'unità della famiglia applichiamo queste cose anche a tante situazioni attuali il nome della verità non si può sparare a zero a destra a sinistra contro tizio caglio e sempronio d'accordo non si può fare questo qui ah ma io devo difendere la verità non lo puoi fare questo non è una modalità gradita a Dio la verità non è il bene assoluto è un bene sommo d'accordo è importantissimo ma il bene superiamo nella chiesa è il bene delle anime ho scritto un articolo un po' di tempo fa secondo consiglio per gli acquisti che è stato postato stamattina credo in qualcuno dei miei social non so se è su facebook sul canale tele che non lo so sul sito da qualche parte sta cioè che il fine non giustifichi i mezzi siccome io sto dicendo la verità e devo difendere la verità a qualunque costo si va avanti quale qualunque costo la verità la devi difendere ma con i mezzi adeguati opportuni leciti non in ogni modo e a tutti i costi lo sta scritto da nessuna parte questo qui non sta scritto nessun Vangelo nessun Nuovo Testamento ecco quindi queste cose dobbiamo tenere presenti perché dentro questo orizzonte allora la buona novella della riconciliazione è del sacramento bellissimo anche se certamente impegnativo si chiama sacramento della penitenza perché celebrare bene questo sacramento è già un atto penitenziale non indifferente lo vedremo però diciamo così tutte le possibili controindicazioni dipendenti purtroppo dalle nostre fragilità dalla nostra umana volontà e dal fatto che il diavolo si infila sempre ad avvelenare anche le cose più sante questa è proprio la sua specialità quindi trasformarti in veleno anche le cose buone noi questo non glielo dobbiamo permettere per nessun motivo e dobbiamo in qualche modo anestetizzarci immunizzarci per evitare che le cose belle diventino disgraziatissimamente fonti di di sofferenza di dispiacere di malessere però addirittura si vada a combinare qualche guaio e guardate che basta guardarsi un po' in giro che se uno è stato attento a quello che ho detto e ha un pochino di intelligenza vedrà che ampiamente sono state come dire abbiamo testimonianze anche in questo nostro tempo di disordine di questo genere cioè che non si è capito che non si può raggiungere un fine pur buono ad ogni costo e con tutti i mezzi ad ogni costo no ma in modo gradito a dio e con ogni mezzo no con i mezzi che sono buoni e leciti perché un'azione buona fatta con mezzi cattivi è male ok bene se Dio vuole ci vediamo la settimana prossima grazie alle numerosissime persone che sono state presenti in diretta vedo insomma ecco sono contento se attraverso la mia povera persona non tanto io ma che il Signore riesca riesce a fare giungere qualche cosa che possa fare bene possa edificare alla prossima Dio vi benedica a tutti a via Maria grazie a tutti grazie a tutti